Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI segnaliamo la presenza di personale su strada tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze e tra Gello e Lavoria in direzione di Livorno, possibili rallentamenti. Uno sguardo alle statali sulla statale 67 Tosco-Romagnola, rallentamenti per un incidente tra San Detole e l'incrocio statale 556 Londastia. Ci spostiamo sull'Aurelia, restringimenti per lavori tra Quercianella e Castiglioncello in direzione di Roma. Prima di salutarci per il traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Sesto Fiorentino e Signa quest'oggi sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!